A tutti noi piace andare in montagna sui sentieri, ma quando lo facciamo ci assumiamo anche il rischio che qualcosa ogni tanto possa andare male, purtroppo. Oggi vediamo 5 modi per chiamare il soccorso o il soccorso alpino quando siamo in montagna, partendo dai metodi più semplici arrivando ai metodi più analogici. Ma iniziamo col video. Il primo caso che andiamo ad analizzare è quello in cui abbiamo sia copertura telefonica che copertura internet. In questo caso non vi consiglio tanto di chiamare il numero unico d'emergenza 112, ma di utilizzare direttamente l'applicazione del soccorso alpino, ovvero GeoResc. Perché vi consiglio l'applicazione invece del numero unico d'emergenza? Perché l'applicazione, una volta che noi chiameremo il soccorso, invierà direttamente lei le nostre coordinate al soccorso alpino. Questo ci eviterà di dover dire noi, a voce al numero unico d'emergenza, le coordinate, che li potrebbe venire su un casino se sbagliate a dare qualche numero. Quindi in quel caso lì le coordinate verranno comunicate direttamente dall'applicazione. Successivamente verrete ricontattati dal soccorso, che vi farà tutte le domande del caso per sapere come state. Dopodiché naturalmente, una volta che avrete avvisato il soccorso, inizierà tutto l'iter per venire ad aiutarvi. Il secondo caso che analizziamo è quando non abbiamo copertura internet, ma abbiamo copertura telefonica, o quella che i telefoni chiamano solo chiamate di emergenza. In quel caso lì dovremo chiamare il numero unico di emergenza 112. Una volta che avremo chiamato questo numero, dovremo sicuramente dargli la nostra posizione. E qui abbiamo tre possibilità. O siamo vicino a qualche rifugio, a qualche monte, a qualche passo, allora dando semplicemente il nome del rifugio, per esempio, ci facciamo trovare. Quindi in quel caso molto semplice. Le altre due invece contemplano la possibilità di dover dare le nostre coordinate. Il metodo più semplice è quello di utilizzare anche qua l'applicazione GeoResc, perché anche se non abbiamo internet, quell'applicazione ci dà le nostre coordinate tramite il GPS presente dentro il telefono. È il metodo più semplice per poter comunicare le nostre coordinate. Altrimenti possiamo usare il classico Google Maps, ma vi assicuro non è così semplice, è un pochino più complicato. Quindi il consiglio è sempre quello di scaricare GeoResc. Poi una volta comunicate le nostre coordinate, anche lì si attiveranno i soccorsi e verranno a salvarci. Il terzo caso che andiamo ad analizzare è quello in cui non abbiamo copertura telefonica, non abbiamo copertura internet, ma magari abbiamo con noi una radio. In questo caso il consiglio che vi do è quello di utilizzare il servizio offerto dalla community di Rete Radio Montana. Rete Radio Montana è una community da appassionati che vanno in giro in montagna con una radio. Utilizzando il canale 8.16 noi potremo comunicare con questi appassionati e comunicare a loro la nostra necessità di soccorso. A quel punto se l'appassionato che riceve la nostra comunicazione avrà copertura telefonica, sarà lui ad avvertire i soccorsi. Altrimenti rimbalzerà la chiamata ad altri appassionati finché qualcuno non avrà copertura telefonica e potrà chiamare i soccorsi per noi. Ci tengo ad aggiungere che non parliamo solo di appassionati, ma questo servizio viene utilizzato anche da tanti rifugi, ristoranti presenti in montagna, stazioni sciistiche, è abbastanza diffusa e soprattutto se volete farne parte anche voi basta semplicemente comprasse una radio, registrarsi sul sito di Rete Radio Montana e potrete dare anche voi un servizio utile a tutti gli escursionisti. Il quarto caso che andiamo ad analizzare è quello in cui non abbiamo copertura telefonica, non abbiamo copertura internet e non abbiamo nemmeno una radio. In quel caso lì dovremo iniziare ad affidarci dei metodi molto più analogici, ad esempio utilizzando il fischietto che abbiamo in dotazione su tutti gli zaini. Cosa dovremo fare? Dovremo emettere un fischio ogni 10 secondi per un minuto, un minuto di pausa, altri fischi ogni 10 secondi per un minuto. Questo è un segnale internazionale di emergenza. Nel caso qualcuno sentirà il nostro fischio ci risponderà con tre fischi in un minuto, un minuto di pausa, tre fischi in un minuto. E a quel punto poi ci si trova per soccorrere la persona infortunata. Questo metodo però ha un grande ma, ovvero che il suono per sua natura è molto variabile come lunghezza. Se siamo in delle valli molto aperte magari va avanti anche per centinaia di metri, se siamo in valli molto chiuse magari farà qualche decina di metri e basta. In questo caso vi consiglio, e qua arriviamo al punto numero 5, di utilizzare la stessa identica procedura utilizzando una sorgente luminosa. Può essere una torcia, anche la torcia del nostro telefono volendo. Può essere una qualsiasi superficie riflettente come ad esempio una lattina che magari possiamo trovare in giro. Oppure come anche la superficie riflettente del nostro smartphone. Anche in questo caso dovremo fare 6 luci key ogni 10 secondi per un minuto, un minuto di pausa e altri 6 luci key per un minuto. Tenete conto che in questo caso la luce, soprattutto se è notte, può arrivare davvero a tanti tanti chilometri di distanza. Potremmo chiamare aiuto anche se siamo molto lontani dalla civiltà. Ora che abbiamo visto questi 5 metodi per chiamare soccorso quando siamo in montagna, ci tengo ad aggiungere altri due aspetti. Primo, lasciate sempre detto a qualcuno dove state andando. Perché se voi non potete chiamare di soccorso potrà farlo una terza persona direttamente da casa. E questo può salvarvi la vita. Secondo aspetto, utilizzate sempre un riflettore recco perché davvero può aiutarvi tantissimo nell'essere trovati da soccorso alpino. Detto ciò ragazzi, io ne ho speranza che questi consigli non vi servano mai nella vita. Vi ringrazio per aver guardato questo video e non ci vediamo al prossimo. Ciao!